È un calendario che va in linea di continuità sia dal punto di vista artistico che contenutistico con i precedenti. L'ARMA da questo punto di vista ha voluto realizzare un calendario, un'agenda, un planning e un calendario da tavolo che andasse ad abbracciare tutte le componentistiche dell'ARMA, non ultimo anche i carabinieri forestali che si dedicano con ogni solerzia, ogni premura alla tutela del bene ambientale che caratterizza il nostro Stato. Sono contemplate all'interno delle tavole alcuni brani che fanno riferimento al regolamento generale dell'ARMA dei carabinieri e dei racconti esemplificativi che testimoniano non solo le capacità operative, investigative, di prevenzione, di servizio di prevenzione delle varie componenti dell'ARMA dei carabinieri, ma sono proposte anche scene di vita quotidiana che testimoniano la vicinanza dell'ARMA a tutte le fasce di popolazione, in particolare le più deboli. Grazie. 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 Grazie.